L'archeologia è una disciplina affascinante, piace, però ha due problemi fondamentali. Uno può essere mistificata e quindi può essere banalizzata, può essere comunicata male. Due può invece essere tecnicamente ineccepibile ma difficile. Una rassegna di cinema archeologico all'interno di una comunità cittadina serve ad avvicinare il pubblico dei cosiddetti non addetti ai lavori a quello che è il nostro ambito di interesse, cioè l'archeologia, la ricerca. I film hanno un linguaggio che il pubblico riesce a capire, riescono ad appassionare, riescono a coinvolgere ma al tempo stesso, per la loro caratteristica documentariale, riescono ad informare su quelle che sono le difficoltà della ricerca, quali sono i risultati, l'emozione della scoperta ed anche il messaggio che è un film come prodotto artistico e quindi come bene culturale esso stesso riesce a trasmettere. Una rassegna come questa, in cui la direzione artistica è affidata ad un regista e ad un archeologo, due professionisti che quindi vengono da due mondi diversi, diventa uno spunto per far crescere entrambe le categorie.